C'è Liano Petrelli al termine del derby della provincia grande, qui alla Libellula Arena, terminato 3-0 per le padroni di casa, Libellula Volebra. Coach, che al di là del risultato che ovviamente non vi premia, non vi vede sorridere, però che partita ha visto da bordo campo? Ma guarda, giocavamo contro una squadra solida, indubbiamente la stessa dell'anno scorso con un paio di innesti importanti. Sapevamo che aveva una buona regolarità di gioco, noi siamo alla ricerca, insomma, intanto venivamo dalla settimana un po' tribolata con infortuni, abbiamo recuperato Battistino stasera, non recupereremo la Costa Magna, per cui, insomma, siamo alla ricerca intanto di un assetto un po' stabile, questo sicuramente. Ma ce la siamo giocato, soprattutto nel terzo setto, perché gli altri due sette, insomma, qualche imperfezione di troppo. Mi dispiace molto, anzi direi che mi girano molto le balle, perché su situazioni semplici, free ball, su delle situazioni abbastanza leggibili anche di attacco avversario, ogni tanto siamo lì che ci incantiamo, non prendiamo delle decisioni, ci vuole un po' più di personalità in certi momenti, però, insomma, ripartiamo da questo terzo sette sicuramente, perché questo terzo sette ci ha dato la situazione di esserci lì, di potercela giocare e niente, c'è da lavorare, è duro, c'è da lavorare sempre, c'è da avere la testa dura, la testa dura, qua non... sono delle ragazze, dubbiamente, che vengono da una prima divisione, per cui è una cosa anche più grande di quella che magari si aspettavano, però molta fiducia, ci sono le qualità per potercela giocare, per crescere, per migliorare, per cui complimenti a Bras stasera, che ci hanno permesso poco i primi due sette, poi, insomma, ce la siamo giocato in terzo. Non tanto stasera, ma soprattutto in settimana, com'è reagito il gruppo, le compagnie di squadra all'infortunio della capitana, di Angelica Costavaia? Ma è stata una brutta buota, siamo presi due o tre cazzotti, ci abbiamo messo un po' di prenderci, però, sia ieri che giovedì, insomma, si deve andare avanti, si deve metabolizzare, si fa quello, il meglio di quello che possiamo, con quello che adesso abbiamo, insomma, abbiamo la fortuna di avere una società che ci sta dietro, ci segue, queste ragazze hanno, c'è tutto per poter crescere e giocarci, a toglierci qualche soddisfazione. Ecco, a partire da sabato prossimo e poi, insomma, per il proseguire della stagione, uno che comunque vuole racimolare dei punti, vuole fare bene, ci stanno spegnendo le luci, però, insomma, com'è, secondo lei, il là della stagione? Ma, noi che vogliamo fare bene, vogliamo crescere soprattutto, perché sapevamo, insomma, sulla griglia di partenza eravamo un po' più indietro, insomma, questo è un gruppo nuovo, con tante ragazze, soprattutto della Under 16, su cui cerchiamo di guardare avanti, di poter, insomma, nel corso del campionato, vedere dei passettini e di crescere soprattutto per quel che riguarda la continuità, insomma, un po' di fisico ce l'abbiamo, stiamo lavorando bene, adesso, insomma, ripartiamo, siamo alla ricerca di un opposto, quello sicuramente. Nota positiva, se dobbiamo vedere un qualche cosa, i 13 punti di Francesco a Parigi, e comunque che ha disputato una buona partita. Ma, su lei ci contavamo, ci contiamo, nel senso che è una bella presenza, è un'abituata a giocare duro, a giocare forte, viene da delle esperienze importanti giovanili, per cui sa cosa vuol dire guadagnarsi la pagnotta. Insieme a lei, intorno a lei, dobbiamo crescere, insomma, abbiamo bisogno tutti quanti di fare non solo il nostro, adesso anche qualcosa in più del nostro.